Ciao, benvenuto nella elenco prodotti. In questo video andremo a dare un'occhiata al 5 migliori SSD. Ho creato questo elenco in base alle mie ricerche e opinioni personali e ho cercato di elencarli in base alla loro qualità, prezzo, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la SanDisk SSD Ultra 3D da 1TB. Nonostante L'SS di SanDisk sia molto più costoso degli altri appena discussi, può essere acquistato su Amazon ad un prezzo molto contenuto, con uno sconto del 59%. Ha un fattore di forma standard da 2,5 pollici con un'interfaccia SATA 3 che consente velocità di lettura fino a 530 MB, s e velocità di scrittura fino a 450 MB, s. I tempi di avvio e spegnimento di un computer sono notevolmente ridotti. Disponibile in una varietà di capacità, fino a 1TB di spazio di archiviazione, per soddisfare un'ampia gamma di requisiti. Il formato più comune è 2,5 pollici, che può essere posizionato su qualsiasi PC. Non consente però di ottenere grandi velocità. Sottocarico elevato, il leader nelle prestazioni casuali. Al numero 4, abbiamo Samsung Memoria MZ76Q1T0860. Ci sono voluti molti anni per recuperare la concorrenza e Samsung ha stabilito una solida reputazione per prestazioni, qualità e servizio clienti. A causa del prezzo più basso rispetto all'evo, grazie alle memorie NAND 3D più economiche, il KV ha prestazioni alla pari di qualsiasi altro SSD, con l'esperienza decennale di Samsung a garanzia di qualità. L'SSD860KV, come le precedenti versioni 860 e 970 EVO, dispone della tecnologia Intelligent TurboVrite. Questa funzione converte una sezione di NAND flash in modalità SLC, ottenendo una cache veloce che assorbe i dati in entrata e accelera i processi. Al terzo posto, abbiamo la SP Silicon Power Silicon Power SSD. L'SPSS di Pcle M.2 ha alzato l'asticella per i dispositivi di fascia alta. Il marchio Amazon's Shoice è stato assegnato a questo prodotto, insieme agli altri elencati, da Amazon. Questa forma di onore viene data a tutti i prodotti che hanno attributi tecnologici superiori, un prezzo basso e un breve periodo di consegna, uno giorno con Amazon Prime. Offre velocità di lettura e scrittura eccezionali grazie all'interfaccia PC Gen 3.4 ultraveloce, sia in termini di prestazioni che di reattività. Nonostante il minor consumo di energia, si ottengono la massima velocità e grandi prestazioni. Anche nelle applicazioni più impegnative, il motore RAID garantisce la stabilità del sistema e l'integrità dei dati. Al numero 2, abbiamo il Samsung Memory MZ76 E500 860. Una delle serie SSD più popolari con interfaccia SATA e il Samsung 860 EVO. Ha una capacità sequenziale di 550 MB, S e velocità di lettura di 52 MB, S. Grazie alla sua forma da 2,5 pollici, può essere utilizzato sia su laptop che su computer desktop. Caratterizzato da una struttura a celle verticali e tecnologie WNAND, che garantisce ottime prestazioni in termini di velocità ed efficienza energetica, anche con carichi di lavoro pesanti. Con la stessa quantità di spazio, le prestazioni sono migliorate notevolmente. In realtà, dati e programmi possono essere archiviati su un unico dispositivo con relativa facilità. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Kingston A400 SSD SA400S37-120G Unità. Kingston SSD A400 è un'unità SSD prodotta da Kingston Technology, un noto produttore di memoria americano. Nonostante non sia un prodotto di fascia alta, è uno dei più popolari in questo periodo. La qualità costruttiva è ottima se rapportata al prezzo di vendita. Consente di migliorare la reattività del sistema. L'SSD è estremamente leggero grazie alla sua struttura in alluminio. A differenza dei normali dischi rigidi, l'hardware è fondamentalmente diverso. In realtà è costituito da memorie flash, che non hanno parti meccaniche, anziché un disco rotante e una testina di lettura. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Ciao!